Con una procedura innovativa che non ha precedenti in Italia nella letteratura medica ufficiale, tramite la cribloazione e il congelamento, praticata con l'uso di aghi realizzati con materiale speciale che non crea campi magnetici, all'aquile è stato rimosso un tumore maligno delle parti molle del ginocchio tramite risonanza magnetica. Con l'avanzata metodica è stato possibile colpire e neutralizzare la minuscola massa tumorale di pochissimi millimetri su una giovane paziente campana, dimessa dopo il trattamento che era stata sottoposta senza esito a intervento chirurgico in altre regioni. La procedura è stata praticata congiuntamente dal servizio di radiologia universitaria diretta dal professor Carlo Masciocchi e dalla radiologia d'urgenza di cui è responsabile il dottor Luigi Zugaro assieme allo staff medico composto da Francesco Arrigoni e Pierpaolo Palumbo. In genere viene utilizzata la TAC, ma la TAC è poco precisa e quando si tratta di tumori assai piccoli come nel caso della paziente campana è poco efficace, precisione che è invece la prerogativa peculiare della risonanza magnetica, la quale però non permette di utilizzare materiale metallico e quindi aghi. Gli specialisti della radiologia del San Salvatore però sono riusciti con l'impiego di aghi realizzati con materiale speciale a distruggere i tessuti malati attraverso la risonanza. La nuova strada battuta dalla radiologia dell'ospedale San Salvatore rappresenta una novità e suggerisce un approccio inedito rispetto alle comuni procedure praticate per la rimozione dei tessuti molli. Tra l'altro il San Salvatore da anni ha creato un virtuoso circuito di mobilità attiva con flussi di pazienti di altre regioni guadagnando una posizione di primo piano a livello nazionale anche per trattamenti relativi ai tumori all'osso con modalità alternative all'intervento chirurgico.